Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Il tema è sempre lo stesso. Intanto non c'è nessuno in questo paese che si può ergere il difensore della prevenzione. Vorrei ricordare che in Liguria le alluvioni che sono venute su Genova sono venute anche grazie a una legge fatta dal centro-sinistra che consentiva di costruire sui rivi andando contro qualsiasi buon senso nell'ottica della prevenzione. Quindi la responsabilità credo che sia generale ma ce n'è una di fondo che questo paese la deve piantare di dire delle cose e farne delle altre. Perché il problema della burocrazia e in particolare il Ministero dell'Ambiente continua a vietare la pulizia dei fiumi, il dragaggio dei fiumi e mette in difficoltà soprattutto tutti quei territori di montagna, lo si ricordava prima, con delle norme assolutamente irragionevoli che fanno sì che alla fine quando bisogna pulire un rivo, sistemare un fiume o fare un'opera di contenimento è molto più complicato nel processo autorizzativo che tirarsi un grattacielo. È evidente che così arriveremo sempre in ritardo e non è tanto il problema del cambiamento climatico perché alluvioni in Italia e i terremoti li abbiamo almeno dall'inizio del Novecento perché prima li avevamo lo stesso ma non venivano censiti. Ora è evidente che la situazione sta cambiando, il clima sta cambiando, ma i tempi di reazione da parte dell'amministrazione pubblica sono ancora più lenti perché abbiamo messo più norme, perché a delle volte si dice che bisogna proteggere la fauna e la flora del fiume e non gli si possono tagliare gli alberi. Sapete che ripulire un fiume oggi è un reato penale, quindi se non hai tutte le autorizzazioni che a volte ci vogliono dei mesi e molto spesso vengono date i momenti in cui poi non le puoi più fare perché ad esempio sui fiumi di regime torrentizio tu le pulizie a settembre, ottobre, novembre non le puoi fare perché arrivano le piene, quindi o te le fanno fare nell'estate, nel momento in cui gli alberi sono secchi o non si possono fare. Quindi c'è un problema di burocrazia che bisognerebbe affrontare con delle norme molto chiare che vadano a consentire agli enti locali di poter intervenire e non aspettare l'emergenza per poi intervenire in deroga.